Importanti novità a Sant'Egidella Vibrata per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Il progetto prevede praticamente la nascita di un nuovo polo scolastico. Sì, questa comunità da sempre chiede un polo scolastico per i ragazzi, ma soprattutto avere la serenità e la tranquillità di mandare i propri figli a scuola pensando in strutture sicure. Noi l'abbiamo fatto grazie a dei fondi di carattere europeo attraverso la regione Abruzzo, abbiamo ottenuto esattamente quasi 3 milioni di euro che oggi andiamo ad investire attraverso il cosiddetto polo scolastico della scuola primaria. Abbiamo 1 milione e 8 per riqualificare la direzione didattica e già appaltato e a breve inizieranno i propri lavori della parte di adeguamento e di ristrutturazione di un altro edificio scolastico, sempre nell'area adiacente alla direzione didattica. All'interno verranno fuori due edifici, uno adeguato sistemicamente per 1 milione e 800 mila euro e un altro di un altro 1 milione e 200 mila euro che invece servirà a condivare tutte le attività di servizio e spazi collettivi. Da una parte abbiamo la scuola primaria di secondo grado, la cosiddetta scuola media, che è già in sicurezza presso il centro fiera di Sant'Egidio La Vibrata. Dall'altra parte con questo progetto riusciamo in qualche modo a dare una risposta di sicurezza e di servizio alla collettività tutta. Quindi Sant'Egidio da qui nei prossimi anni potrà risvegliarsi e avere certezza di poter mandare i propri figli, come adesso, perché sottolineiamo a tutti i cittadini che Sant'Egidio ha comunque scuole sicure, perché abbiamo ritenuto opportuno chiudere quelle scuole che avevano più livelli, lasciando solo e sicuramente le scuole che davano sicurezza all'amministrazione, alle famiglie, ma soprattutto ai bambini.